Musica 3, 2, 1, stella! Ebania, ma quant'è che non ci si vedeva? Davvero? La babbia bella! Boh? Boh? Ho capito, però almeno ci si è provato. Se mi direte... Ma andiamo con la Barahondaville. L'ho detto qui. Ho detto la Maria, fa perdere il tempo. Grazie mille, e ora Giulio... Sia per la squadra che per i nostri tifosi. Quindi? E di gara 3 e delle eventuali... Visto di le... Ultima... Allora, aspetta... Amici... No! Mentre il dipendente... No! No! Palti! Metti nel cestino! No, Fania! Metti nel cestino! Palti! Ma come dire, non lo sai? Via a dire, aspetta... Si rifà, perché... Che succede? Che sono queste due aste? Eh, pronta la coreografia, perché... Aspetta, no, rifai. E vi diamo appuntamento al 3 di marzo. Davvero Giulio, contro Pesaro, sempre partite belle. Dai ragazzi, alla fine stiamo migliorando. Ah, Bri! No, ora ragazzi, è arrivato il momento. No, Giulio, dai, questa volta no. No! Torniamo al Palacarrara contro la sfida. Torniamo al Paracarr... Sì, al Paracarr... Ma quante cose... Che... Ah, avuto molti ansia. Allora, aspetta... Vado? Vai. E avete visto quanto duro lavoro c'è dietro una coreografia? Buona... No, buonasera è brutto. E ringraziamo... L'Elisa. Papparavapappero... Papparavappero... In campo non è andata tanto bene. Ma sugli spalti... Molto meglio. Era vero Dila. Adesso dobbiamo continuare a vincere per... Biancorosso che è stato. Proprio pieno di iniziative. Non lo sapevo proprio pieno di iniziative. E come sempre ringraziamo i consigli... Ah! Ma no! No! Ma no! Ringraziamo la Paolina e... Non me la ricordo. Sì, perché mi prendo un po' di pubblicità. Ma noi non demordiamo perché... No, stasera non devo dirlo. Come sempre ringrazio... Ringraziamo di nuovo il nostro... Me. Non è possibile. Oggi è una... La diletta si è baldizzata. I tifosi del Palacarrara hanno soffiato su quel pallone per spingerlo dal fesi. E noi rimaniamo aggrappati ai piani alti. Ma ora riprendiamo della classifica. E ringraziamo i ragazzi del Pistoia Love Basket. E ringraziamo come sempre il nostro sto... Dopo la sosta dello Star Game... Siamo ripassi... Dire questa settimana il quiz era proprio difficile. È proprio così. È spazzato. È proprio così. Come sempre ringraziamo il nostro main autobus. Che passo sempre nel momento. Allora ragazzi, sempre divertenti le... Brutta, 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 brutta. E speriamo di poterlo fare nuovamente il nostro quiz. Non me la ricordo. Incrociamo le dita contro la part... Sì. È vero dire. Noi oggi facciamo vedere una piccola anticipazione. Esatto. Ma ora non rimanate. E ringraziamo il nostro main sponsor. E a ora giù... E a ora... Ora ombre. Ora ombre. E a ora... E a ora... E a ora...